Quelle grandi. Di Mercator si chiamano. Ah, io le adoro, c'è tutto su quelle. I fuochi, i fari, gli ancoraggi e le secche. Sono formidabili. A Concarno la sera, guardando il mare, il primo fuoco che si accende è all'isola di Mouton. Poi vengono quelli di Glennau. Finché ce ne sono nove in tutto. È bello. Perché mi dici questo? Bisogna.